Anche quest'anno siamo arrivati all'ennesima edizione di Age.io, il concerto che vi vedete conto, con volti oltre 300 artisti bolognesi. Quest'anno, diciamo la particolarità, c'è un momento dedicato al Bologna Futbol, con diversi artisti che canteranno tonzoni dedicate al Bologna. Con le mani, dai ragazzi. Dai, vuoi rosso, blu. Le mie gambe sono con te, le mie mani sono con te. La mia voce canterà fino all'assù. La mia voce canterà fino all'assù. Bologna. Bologna. Con te si gioca solo in paradiso. Un bacio, un cuore ed un sorriso. Io ti amo di modi. Bologna. E scarsa forte la tua voce sugli spazi del Dallara, Bologna. 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 Buonga. Bologna. Buonga. Buonga. Bologna. Bologna. A sud e qua. Buonga. Per front, a casa? Continforo. Poto lasci. Orpa. Faccio invece. Bologna. Così dovete sapere. Abbiamo in cond С 놀�. Si sta avvolgendo a termine anche per quest'anno l'edizione del concerto Chiegio in piatta maggiore, ricordiamo che anche in questa edizione grazie alle cucine popolari e all'opera Padre Marella è stato dato il pranto a metto giorno all'interno del cortile del comune a decine di persone in difficoltà. Quindi questo concerto non solo regala attimi di allegria ai bolognesi che come ogni anno a decine partecipano ma anche un momento di tranquillità e di aiuto alle persone in difficoltà.